workout dinamico a difficoltà crescente per tonificare tutto il corpo faremo un allenamento completo per un ottimo lavoro muscolare e cardiovascolare iniziamo ok ragazzi iniziamo questo super workout circonduzione braccia avanti facciamo un buon riscaldamento fondamentale per lavorare al meglio ok 5 4 3 2 1 cambio andiamo con la circonduzione indietro movimenti ampi iniziamo da subito ad attivare la respirazione naso bocca inspiro ed espiro scaldiamo bene la parte alta 5 4 3 2 1 cambio spinta indietro continuiamo il lavoro di riscaldamento scaldiamo bene il corpo prima di iniziare inizia a fare una buona respirazione naso bocca 5 4 3 2 1 cambio scendiamo lungo il fianco destra e sinistra gambe leggermente divaricate scendiamo piano altezza ginocchio senza forzare attiviamo anche l'addome 5 4 3 2 1 cambio spinta su una gamba scegliete una gamba e iniziate a mezzo squat salgo piccola spinta 10 secondi iniziamo anche ad ascaldare la parte bassa attiviamo la parte bassa 3 2 1 cambio gamba spinta sull'altra gamba quindi sempre mezzo squat salgo e leggera apertura sul fianco vai utilizziamo le braccia respirazione sempre attiva 5 4 3 2 1 cambiamo mezzo squat attiviamo bene gambe e glutei scaldiamo bene anche la parte bassa respirazione attiva mantieni il ritmo 5 4 3 2 1 saltellata laterale piccoli saltelli a destra e a sinistra utilizziamo le braccia nel movimento manteniamo il ritmo respirazione sempre attiva naso bocca naso bocca naso bocca 5 4 3 2 1 cambiamo jumping jack esercizio cardiovascolare braccia leggermente piegate tocchiamo con le mani sopra la testa salto sull'avampiede mantieni il ritmo 5 4 3 2 1 affondo indietro scegli una gamba e inizia l'affondo indietro mantieni il ritmo solo su una gamba affondo scarica il peso al centro del movimento utilizza le braccia per mantenere l'equilibrio 5 4 3 2 1 recuperativo 10 secondi andiamo giù a terra ci posizioniamo in plank 3 2 1 posizione del plank addome contratto bacino in su non cedere braccia tese respirazione sempre attiva dobbiamo formare una linea 5 4 3 2 1 recupera 10 secondi risaliamo ripartiamo con l'affondo con l'altra gamba che non abbiamo fatto prima vai affondo indietro scarica il peso del movimento al centro utilizza le braccia per la stabilità addome contratto respirazione sempre attiva nell'esercizio 5 4 3 2 1 saltellata laterale piccoli saltelli a destra e a sinistra manteniamo il ritmo 3 2 1 slanci in avanti alternato passettino indietro salgo e spinta cerchiamo di toccare la punta del piede con la mano 10 secondi salgo e tocco salgo e tocco 5 4 3 2 1 cambio step touch respira il prossimo esercizio è lo squat 3 2 1 posizione di squat gambe leggermente utra le spalle punte leggermente in fuori scendiamo col bacino mantieni la curva lombare utilizza le braccia per la stabilità e la sincronizzazione dell'esercizio 3 2 1 cambio di intensità jumping jack vai mantieni il ritmo 5 4 3 2 1 recuperativo 10 secondi ci prepariamo per affondo indietro scegli una gamba partiamo con la sinistra 3 2 1 vai affondo indietro mantieni l'equilibrio scarica il peso del movimento al centro non toccare col ginocchio a terra respira 3 2 1 recuperativo 10 secondi andiamo giù push up a terra utilizziamo la modalità più semplice quindi appoggiamo le ginocchia a terra vai ginocchia a terra addome contratto push up prendo l'aria quando vado giù butto fuori l'aria quando salgo mantieni il ritmo 5 4 3 2 1 recupero ripassiamo in a fondo indietro la gamba destra quello che non abbiamo fatto 3 2 1 vai mantieni l'equilibrio respirazione sempre attiva utilizza le braccia per stabilità e equilibrio nel movimento 5 4 3 2 1 cambio salterata laterale piccoli saltelli a destra e a sinistra 5 4 3 2 1 slanci in avanti alternato destra e sinistra vai sali tocca la punta del piede con la mano slancia coordina il movimento 3 2 1 cambio step touch 10 secondi respira prendi fiato tra 5 secondi cambiamo in squat 3 2 1 cambio squat scendiamo bene con il bacino gambe leggermente larghe oltre le spalle punte in fuori scendiamo 10 secondi ancora vai scendi bene 5 4 3 2 1 skip incrociato allarga le gambe sali bene con le gambe sali bene con le ginocchia tocco con le mani incrociato 3 2 1 cambio a fondo indietro scegli la gamba con cui partire scarica il peso del movimento al centro utilizza le braccia per mantenere la stabilità addome contratto respira 5 4 3 2 1 recupera andiamo giù ci prepariamo per il plank partiamo tra 3 2 1 posizione del plank glutei contratti bacino che non cede gambe tese braccia tese respirazione sempre attiva mantieni l'isometria mantieni 3 2 1 recupero 10 secondi ritorniamo in a fondo dietro facciamo l'altra gamba 3 2 1 vai a fondo indietro controlla il movimento utilizza le braccia per la stabilità respira non fare l'esercizio in apnea non toccare col ginocchio a terra 5 4 3 2 1 cambio saltellata laterale piccoli saltelli a destra e sinistra respira 3 2 1 slanci in avanti alternato vai sali bene con la gamba tocca la punta del piede con la mano respira 10 secondi passiamo lo squat mantieni il ritmo non ralentare 3 2 1 squat allarghiamo le gambe oltre le spalle punta in fuori scendiamo col bacino utilizza le braccia nel movimento scendi bene 5 4 3 2 1 recupero recupero andiamo giù ci prepariamo per il plank isometrico 3 2 1 posizione del plank addome contratto glutei contratti braccia tese non scendere col bacino mantieni la linea 10 secondi resisti mantieni la posizione isometria 3 2 1 recupera 10 secondi rimaniamo giù che abbiamo il plank in movimento 5 4 3 2 1 plank in movimento posizione del plank avviciniamo il ginocchio verso il petto alternato destro sinistro destro sinistro mantieni il ritmo respira addome contratto vai 3 2 1 recupero 10 secondi risaliamo ci prepariamo per lo squat 3 2 1 vai con lo squat gambe oltre le spalle punta in fuori scendi col bacino mantieni il ritmo respira attiviamo gambe e glutei vai scendi bene 5 4 3 2 1 skip incrociato allarga le gambe sali bene con le ginocchia tocca il ginocchio con le mani 3 2 1 affondi indietro scegli una gamba e parti utilizza le braccia per la stabilità per la stabilità per la stabilità e l'equilibrio addome contratto respira respirazione sempre attiva 5 4 3 2 1 10 secondi recupero attivo andiamo giù push up ginocchia a terra 3 2 1 appoggio le ginocchia a terra salgo con le gambe scendo e risalgo addome contratto prendo aria quando vado giù butto fuori l'aria quando salgo sfingo bene 5 4 3 2 1 recupero e risaliamo affondi indietro gamba destra l'altra gamba che noi abbiamo fatto 3 2 1 vai affondi indietro utilizza le braccia per la stabilità scendi col ginocchio sfiora a terra senza toccare 5 4 3 2 1 cambio salta lata laterale manteniamo il ritmo piccoli saltelli a destra e a sinistra il prossimo esercizio è slancio alternato 3 2 1 slancio in avanti alternato salgo con una gamba e poi con l'altra cerco di toccare la punta mantengo il ritmo respiro 10 secondi e passiamo allo squat vai 5 4 3 2 1 cambio squat allarghiamo le gambe oltre le spalle punte leggermente aperte scendiamo col bacino respirazione attiva utilizziamo le braccia per la stabilità del movimento 5 4 3 2 1 recupero 10 secondi andiamo giù push up ginocchio a terra 3 2 1 vai push up ginocchio a terra attiviamo le braccia attiviamo le braccia i pettorali i tricipiti addome contratto ginocchio appoggiato a terra respira 5 4 3 2 1 recupero rimaniamo giù passiamo plank in movimento iniziamo tra 3 2 1 vai plank in movimento addome contratto braccia tese avviciamo il ginocchio verso il petto alternato destro sinistro destro sinistro mantieni il ritmo resisti respira 5 4 3 2 1 ok pausa a fondo indietro vai e slancio del gluteo utilizziamo bene le braccia nel movimento mantieni l'equilibrio scarica bene il movimento dell'affondo nel centro ginocchio non tocca terra scende sfiori il pavimento risali e slancio le braccia danno la stabilità 5 4 3 2 1 cambio step touch respira sciogli un attimo ripartiamo tra 10 secondi con l'altra gamba sempre a fondo indietro slancio più gamba 3 2 1 vai a fondo indietro e slancio la gamba la fondo indietro è controllato risalgo e slancio lo slancio attiva il gluteo mantieni il ritmo utilizza le braccia per la stabilità del movimento e l'equilibrio addome contatto respirazione sempre attiva 5 4 3 2 1 cambiamo intensità jumping jack vai parti subito mantieni il ritmo non ti fermare braccia leggermente piegate che toccano sopra la testa 3 2 1 cambio squat più doppio calcio scendo bene in squat risalgo 2 calci in avanti provo a toccare la punta del piede con la mano respirazione attiva completa lo squat vai giù risali 1 2 vado giù risalgo 1 2 mantieni il ritmo respira 5 4 3 2 1 saltellata laterale mantieni il ritmo piccoli saltelli a destra e a sinistra utilizziamo le braccia nel movimento manteniamo il ritmo 3 2 1 ok vai torsione gomito ginocchio solo da una parte mantieni il ritmo avvicina il ginocchio al gomito respira butta fuori l'aria in torsione 5 4 3 2 1 torsione gomito ginocchio alternato più calcio vai torsione torsione calcio calcio incrocio bene cerco di toccare la punta del piede con le mani mantieni il ritmo respirazione attiva ginocchio ginocchio tocco la punta tocco la punta mantieni il ritmo vai 5 4 3 2 1 cambio intensità jumping jack vai braccia leggermente piegate respirazione sempre attiva testa diritta salta sull'avampiede non rallentare mantieni il ritmo 5 4 3 2 1 recuperativo 10 secondi ci posizioni a terra push up ginocchio a terra 5 4 3 2 1 vai scendo butto fuori l'aria quando salgo movimento controllato ginocchio a terra addome contratto respira nell'esecuzione dell'esercizio scendo piano e salgo piano vai 5 4 3 2 1 recupero 10 secondi ripartiamo squat più doppio calcio tra 5 4 3 2 1 squat più doppio calcio vai scendo bene in squat slancio in avanti doppio calcio braccia sincronizzante con il movimento respirazione attiva scendo bene in squat risalgo doppio calcio separa bene i movimenti mantieni il ritmo non ti fermare non rallentare 5 4 3 2 1 recuperativo 10 secondi andiamo giù a terra ci prepariamo per plank tocco spalle 3 2 1 posizione del plank tocchiamo la spalla movimento alternato scarico il peso e tocco la spalla scarico il peso e tocco la spalla respirazione sempre attiva addome contratto glutei contratti alterno il movimento prima a destra e poi a sinistra mantieni il ritmo non ti fermare resisti 5 4 3 2 1 recupera 10 secondi saldiamo a fondo isometrico 3 secondi in blocco e risalgo 3 2 1 e alternato vado dietro 3 secondi e risalgo vado indietro 3 secondi e risalgo mantengo questo ritmo respirazione sempre attiva concentrato utilizza le braccia per la stabilità dell'isometria non tocco col ginocchio a terra mi fermo prima 5 4 3 2 1 recupero passiamo a 2 jumping jack e camminata su plank 3 2 1 vai 2 jumping jack scendo camminata su plank posizione e risalgo 2 jumping jack scendo posizione del plank e risalgo respira respirazione fondamentale nell'esercizio addome contratto in discesa del plank 5 4 3 2 1 ok pausa pausa ok affondo salto a fondo separa bene i due movimenti utilizza le braccia nella stabilità respira salto a fondo con una gamba salto a fondo con l'altra mantieni il ritmo non ti fermare respira 5 4 3 2 1 torsione gomito ginocchio solo da una parte scegli la gamba incrocia bene avvicina ginocchio gomito butta fuori l'aria in fase di chiusura mantieni il ritmo tocco la punta risalgo tocco la punta risalgo 3 2 1 recupero attivo ci prepariamo plank ginocchio gomito 5 4 3 2 1 vai plank ginocchio gomito posizione del plank addome contratto avviciniamo le ginocchia verso il gomito separa bene i due movimenti respirazione sempre attiva nell'esercizio non lavorare in apnea addome contratto braccia tese alterniamo ginocchio gomito ginocchio gomito vai 5 4 3 2 1 recupero attivo squat più doppio calcio mantieni il ritmo ripartiamo tra 3 2 1 scendi bene risali e doppio calcio gambe oltre le spalle punte leggermente fuori utilizza le braccia per la stabilità talloni bene appoggiati a terra salgo slancio e tocco la punta del piede con le mani vai 10 secondi mantieni il ritmo non ti fermare respira 5 4 3 2 1 cambio torsione gomito ginocchio solo da una parte mani dietro la testa avvicino vomito ginocchio salgo bene butto fuori l'aria in fase di chiusura di crunch 5 4 3 2 1 recupero attivo andiamo giù ci prepariamo al plank in corsa respira prendi fiato 3 2 1 posizione del plank vado con la corsa vado con la corsa mantengo gli addominali contratti braccia tese tocco appena la punta e riparto le ginocchia sfiorano terra mantieni il ritmo respira non rallentare 10 secondi vai addome contratto respira 5 4 3 2 1 recupero attivo ripartiamo con affondo il ginocchio su la gamba 3 2 1 scegli la gamba vai in affondo risalgo e spingo il ginocchio su affondo risalgo spingo il ginocchio su sincronizza il movimento delle braccia con il movimento delle gambe vai 5 4 3 2 1 cambio dall'altra parte stessa cosa scendo in affondo e salgo col ginocchio su sincronizza il movimento con le braccia vai respira mantieni l'equilibrio 5 4 3 2 1 e pausa andiamo giù prendiamo aria e buttiamo fuori gambe leggermente oltre le spalle saliamo inspiriamo scendiamo ispiriamo 5 4 3 2 1 circonduzione braccia avanti movimento lento controllato movimento di scarico mantieni sempre la respirazione attiva naso e bocca respira 5 4 3 2 1 circonduzione indietro movimento lento controllato inspira ed espira 10 secondi e passiamo a stretching gamba sinistra 5 4 3 2 1 stretching gamba sinistra prendo bene il colo del piede utilizzo le braccia per la stabilità mantengo la posizione di stretching respirazione sempre attiva inspiro ed espiro 5 4 3 2 1 piano piano cambiamo l'altra gamba prendiamo il colo del piede avviciniamo al gluteo mantieni la posizione di stretching utilizza le braccia per la stabilità respira 5 secondi e andiamo in divaricata frontale 3 2 1 piano piano allargo le gambe scendo divaricata frontale arriva arriva fino a dove riesce a percepire lo stretching posteriore 5 4 3 2 1 ci spostiamo da un lato o destra o sinistra tocchiamo la punta del piede o la caviglia senza piegare il ginocchio mantieni la posizione di stretching rilassa la testa mantieni la respirazione sempre attiva 3 2 1 ci spostiamo piano piano dall'altra parte dove andiamo a toccare caviglia o punta del piede o addirittura terra in base al vostro stretching e elasticità testa rilassata respira 3 2 1 ok il tuo workout è finito vamo a vamo Grazie a tutti.